Wow, che splendore e che buon profumo! Ho l'auto che scintilla come un gioiello! È l'effetto GM Detailing, il centro estetico dell'auto. A Porto Mantovano, provare per credere! Ciao, buongiorno a tutti. E senza fare un video lungo lungo, volevo semplicemente farvi gli auguri di buon anno. Questo è stato un anno più facile rispetto all'anno precedente, ma complicato sotto alcuni punti di vista. Io però voglio ringraziare intanto tutti quelli che si sono iscritti al canale, che ci stanno seguendo, che mi stanno seguendo. Sapete che il mio intento non è tanto quello di essere uno YouTuber, perché proprio non è la mia strada. La mia strada è quella di far conoscere a più persone possibili che cos'è il mondo del car detailing. E per farlo, uno dei canali che mi sembrava più semplice e per poter raggiungere più persone possibili era appunto YouTube. Vi ricordo che noi abbiamo anche una pagina Instagram, una pagina Facebook. Se volete guardarlo o seguirci, ci fa piacere. Insomma, l'intento del mio video è principalmente quello di ringraziarvi per il fatto che vi siate iscritti, che ci state seguendo. E quello di farvi gli auguri appunto di un buon anno. Non ho propositi per 2022, io spero, come sempre, come tutti gli anni, che sia un anno di tante cose belle, però lo vivremo giorno per giorno. Giorno per giorno cercherò sempre di più, di portare questo mondo e la GM detailing a fare in modo che sia conosciuta il più possibile. Lo farò anche con un proposito nei video, nei prossimi video che usciranno dal 12 gennaio in poi, perché adesso fino all'11 gennaio sono già tutti programmati, quindi le uscite ci saranno. YouTube sta facendo anche a volte un po', ma non so se è colpa di YouTube, se è stata colpa mia. A volte escono a mezzanotte, a volte non escono, non lo so, dovevano uscire tutte le sere alle 21 o adesso nel periodo delle festività, perché siamo chiusi per ferie, magari non tutti i giorni. Comunque sempre alle 21 dovevano uscire e non è stato così. Vabbè, paziente. Stavo dicendo che mi interesserà sempre di più, mi interessa sempre di più fare i video in maniera semplice. Semplice cosa vuol dire? Vuol dire che voglio cercare di rendere tutto quello che è il car detailing accessibile a tutti. Quindi niente paroloni inglesi, niente cose complicate, ma dobbiamo, o voglio fare in modo che anche la persona che per la prima volta si approccia a questo mondo, capisca già da subito che cosa si tratta quando si parla di car detailing. Ecco, questo è il mio intento per il 2022. Il video finisce qui, molto corto, io vi rinnovo di nuovo gli auguri di un buon anno 2022, passatelo con chi volete, con i vostri familiari, con i vostri amici. Io vi ringrazio di nuovo, vi auguro di nuovo un buon anno e noi ci vediamo l'anno prossimo. Iscrivetevi sul canale se volete, seguiteci su Instagram e su Facebook. Ciao a tutti! Ciao a tutti!